Vai Barros, porco Dio! Ah, fammi prendere la traccia, una traccia! Magari, me la vedo! Adesso è l'urda. Fai scendere. Adesso! No, non funziona. Grazie, grazie. No, ragazzi, che vi dobbiamo dare nei miei pasti. Dobbiamo dare nei miei pasti, che coordinazione che abbiamo visto. Con una spadatina l'abbiamo ucciso. Sì, con una spadatina.